Tra un mese inizierà il montaggio del nuovo ponte sul viadotto Imera. Il cantiere sarà completato entro fine aprile 2020. Sono questi gli ultimi dati raccolti dalla filea CGL Palermo in un incontro per analizzare le criticità emerse e monitorare lo stato dell'opera che avrebbe dovuto essere consegnato un mese fa. I materiali per la costruzione del viadotto sono già arrivati e il montaggio è affidato ad un'impresa grigentina. La filea ha voluto verificare sul posto i motivi del ritardo. All'incontro con il contraente generale sono state fornite rassicurazioni sul rispetto dei tempi. L'opera di 8 milioni di euro si trova al 40% della sua realizzazione. Il cantiere sulla 19 è partita a maggio del 2018. Dal mese di maggio ora alcune criticità hanno rallentato l'esecuzione dei lavori e per l'impresa non è stato possibile consegnare l'opera entro i termini, spiega il segretario generale della filea CGL Palermo Piero Ceraulo. Una delle condizioni che ha determinato il ritardo riguarda l'ubicazione del cantiere. La messa in sicurezza e il ripristino del nuovo viadotto sono andati avanti a rilento a causa dell'intasamento del terreno per la frana che ha causato il crollo e perché il cantiere si trova sul letto del fiume Mera. Malgrado le difficoltà la filea ha potuto verificare il completamento dei nuovi piloni che serviranno alla posa del viadotto. Si rimane solo in attesa il montaggio della struttura in ferro e qui in sorte il secondo grosso problema. Per la fornitura dei materiali metalli c'era stata incaricata l'azienda LMVSPA di Verona. Sei mesi fa la società è andata in concordato. Tutte le commesse si sono fermate, anche la produzione dei materiali per il ponte di Palermo. In aggiunta a questo, per la casuale concomitanza dei lavori al ponte Morandi, tutte le maestranze dell'impresa sono state spostate presso un'altra fabbrica di profilati metallici di Genova. Ma anche in sorta un terzo rilevante problema. La posa in opera del ponte inizialmente era stata prevista dall'alto verso il basso. Invece il varo del ponte è stato invertito. Si farà dal basso, condizione che richiede la realizzazione di un piano stradale sottostante per consentire la corretta esecuzione dei lavori e il passaggio dei mezzi aziendali.